I carabinieri della stazione di Belvedere, nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale, hanno sanzionato un 21enne recidivo per guida senza patente e senza assicurazione. Il giovane era stato sorpreso dai militari alla guida di un'auto già sequestrata, poiché sprovvista di assicurazione e gli era stata revocata la patente di guida e confiscato il veicolo, così come previsto dal codice della strada. Nonostante ciò, il ragazzo continuava a guidare utilizzando un'altra autovettura, anche questa non assicurata, ma è stato fermato dai carabinieri che gli hanno contestato la guida con patente revocata e la reiterazione della circolazione con veicolo senza assicurazione. Anche quest'altra autovettura è stata sequestrata e sono state contestate violazioni al codice della strada per oltre 9 mila euro, oltre alla segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, poiché è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish. I militari dell'arma hanno inoltre notificato un provvedimento di sospensione di attività allegale rappresentante di un locale di intrattenimento musicale, in quanto è stato accertato che nel corso di più serate danzanti sono stati somministrati alcolici a minori di 16 anni. I riscontri investigativi dei carabinieri hanno portato all'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell'attività per 15 giorni.